Ciao a tutti sono SpiGramtoto e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su Techcraft, questa è la puntata numero 26 E allora ho messo in moto la Tartle un paio di volte, adesso è tuttora in moto E mi ha dato un po' di roba, è già la seconda volta che faccio vai e vieni per scaricarlo L'ho messa un po' lontana da casa perché qua siamo in un'isola praticamente Cioè in pratica questa parte dell'isola è finita dove era prima, non ho potuta metterla qui vicino Quindi l'ho messa oltre la montagna però ho messo un waypoint quindi sarà abbastanza semplice arrivarci Allora come vedete è aumentato il nostro patrimonio Allora i fiori se li potevo anche tenere, ah no questi li ho rotti io, ah ho dimenticato una cosa Allora seguendo i vostri consigli mi avete detto che in realtà quello che stavo facendo Cioè la, come si chiama, il coso di, lo smistamento chest con i barrels e così Non è efficiente per niente E allora ho dato un'occhiatina e abbiamo un bel po' di quarzo E i più acuti di voi, i più ben pensanti di voi avranno capito di cosa sto parlando Credo proprio che faremo la, la ME, la Play of Energistics Ecco, perché? Perché vabbè a parte che è più, molto più figa come modo, parliamone Questo va qui, ah a proposito ho ritirato anche la chest in mezzo alle balls che c'era tipo qui E niente quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo subitirrimo E niente, questa roba la leviamo dopo però, adesso, adesso devo fare altro Devo vedere come si fanno le cose, solo che non mi ricordo neanche i nomi Quindi facciamo Applied, ole Allora, ci serve ME controller Che si fa, oh cazzo Ah no, con una cazzata Nether quartz, ah ok si fa con la redstone, perfetto E questa roba Oh mio dio Ci costarà un, ma per fortuna abbiamo un po' di diamanti Questo si fa con due stick e due quarzi e un iron Eh, va bene, quindi si fa abbastanza semplicemente Iron, iron, ok Eh, poi, ME drive Facciamo questo perché è più comodo Questi si fanno con l'oro, giusto? Sì Servirà del silicone che si fa cuocendo il certus quartz O il nether quartz Interessante Scusate un attimo Eccomi qui, scusate Era un urlo di mia madre perché sto facendo il chiasso Come al solito sto resistendo tardissimo A proposito, scusatemi se non sono usciti i video negli scorsi giorni Ma tra verifiche, interrogazioni, poi visita oculistica Perciò neanche ieri ho potuto registrare perché avevo la roba, come si chiama? La roba negli occhi e vedevo tutto sfocato Tra l'altro diventerò un quattro occhi Quindi nei prossimi vlog vi vedrete con gli occhiali, oddio Vabbè Quindi niente, non ho potuto registrare negli scorsi giorni E in più non ho potuto registrare dei giorni Infatti adesso sto registrando come al solito di notte Perciò come al solito avrò il tono di voce basso Mi dispiace Non posso esaltarmi se faccio qualcosa di bello Quindi vabbè Comunque dicevo M drive Ok l'abbiamo già visto una cazzata Poi cosa ci serve? Ah sì il access terminal Oh facciamo il crafting, esiste ancora? Crafting terminal E questo invece cos'è? Crafting monitor C'è qualcosa di nuovo mi sa Eh sì, vabbè Crafting terminal si fa con un access terminal Che si fa facile Vediamo questo come si fa Eh? Ah ok ok Due quarzi e un resto No aspetta Sì, boh Spero che sia così Comunque Poi ho visto Ah no era crafting terminal Ok ho visto male E poi niente Cosa ci serve? Niente Allora la cosa bella di quello che voglio fare È che voglio integrare Praticamente due mod Cioè Voglio integrare La update logistics Con La logistics pipe Pipes Scusate Perché? Allora con la update logistics Abbiamo una gestione Degli inventari Bellissima Con la logistics pipes Abbiamo un metodo per richiedere le cose a lunghissima distanza Praticamente infinito Cioè dovunque sono Posso richiedere una cosa Che finisce in una cesta di casa In un ender cesta di casa E poi con una ender push posso prenderla dovunque Il che mi permetterebbe di avere il mio inventario di casa dappertutto Ed è questo il risultato a cui voglio arrivare Quindi niente Iniziamo subito il crafting Allora Sono un po' cambiati Quindi li faccio Avevo intenzione di farli in off camera Ma siccome sono cambiati Voglio mostrarlo Ecco Quindi Ci servono 8 8 certus quarts E 4 redstone Sempre se fanno Perché mi sta venendo il dubbio Che non ci voglia veramente Quello quarts o del nether Vabbè In ogni caso si può craftare L'abbiamo visto Allora era No tu levati Era così And così Bene ci vuole l'altro Che si crafta No scusate ho sbagliato Si crafta No E che cazzo la rola Scusate sono un po' mezzo aumentato Con la philosopher stone E 2 redstone Quindi prendiamo che 2 redstone In realtà 8 redstone Ce ne servirà di redstone Quindi le convertiamo tutte Ok Eh no scusate Volevo fare così O le Usiamo questa chest Spero Eh no Lasciamo quello Non ho voglia di buttare tutta la roba Ho ritirato tutto prima Quindi preferisco fare così Quindi era Così E la philosopher stone giusto? Andiamo Yes Oh che palle sto bug Forse sono le chest Voglio provare una cosa Aspettate un attimo Facciamo così Ce l'avrò una chest normale Non ce l'ho Qua c'è del legno Quindi facciamo così Lo devo smantellare per forza Ho capito Ok Vediamo un po' Se io lo faccio in una chest normale Anche qui devo fare la robina No niente È un bug suo Però se faccio Esiste la project table Esiste ancora? Perché se esiste Credo che faccia Per il mio scopo Eh vabbè Tu adesso resti là un attimino Che devo fare questo Ne ho fatto uno in più Mi sa Mi ha la memoria Come va via velocemente È l'età È l'età Sì infatti ne ho fatto in più 4 4 Eh Redstone Olè Poi cos'altro ci serve? Tu vai a fangulo 4 cosi ce li abbiamo 4 iron li prendiamo Ci serve questo Allora ci serve il quartz Che si fa con 2 quartz Credo anche quelli normali 2 stick O 1 non mi ricordo Così 2 E poi un iron Prendiamo tutto l'iron Che abbiamo qui Che non è molto Quindi devo mettere a fare Altro iron Ce l'abbiamo in ogni caso Ok Questo ce l'abbiamo Ora dobbiamo fare Cosa dobbiamo fare? Allora 2 redstone 1 diamonds Ah 2 redstone Ce li abbiamo qui 2 redstone No ho sbagliato Oh fuck you Era tipo qui Qui Se è giusta Non voglio controllare Se è giusta Sono un genio Un diamonds Che sta finendo Stanno finendo velocissimamente I diamonds In the sky E poi devo mettere a cuocere Del Oh mio dio Del certus quartz Perché ne danno sempre di meno? Ne facciamo 10 di questi Perché tanto ci serviranno Moltissimo Tu sei una fornace Yes Ok Vai nel frattempo Mi sa che andiamo Ah no non posso Perché non posso caricare il chunk Stavo pensando E se mettessi un query Se facessi un query Una volta che ho i diamanti Per caricare i chunks Perché Quell'altro Come si chiama? Per Quell'altro chunk loader Quello della Mine factory Non ho ancora capito come funziona C'è nel senso Ho capito come funziona Ma non saprei come capire Se sta a funzionare in quel momento Cacchio Mi sono appena ricordato Che ho tolto la roba Dove sei? Dove stai? Ecco qui Allora Devo mettere il bridge E il producer Giusto? Tocca da diventare pipistrello Allora Tu sei un producer E tu sei Un energy bridge Quindi devo fare così Vediamo se sta arrivando Yes E così Vediamo se sta arrivando Anche qui Olè Qui a casa abbiamo Un bel po' di energia Se notate Non scende quasi mai Questa roba Tu esisti ancora E stai ancora producendo Ah beh Lo lasciamo fare Tanto ormai Restarà la vita Prima finirà Diventa pipistrello Per non distruggere tutto Per non aggiungere roba Ok E nel frattempo Ci prendiamo Ci prendiamo Il cosa che ha cotto Saliamo su Copriamo il buco Che non mi piacciono I buchi Oddio To così Lol Scusate se la mia voce È un po' tipo Mezzo dormiente Però è così È mezzo dormiente Cioè io sono Mezzo tormentato Ecco Il bello addormentato Mettiamo il silicone qui E prendiamo questo Che è anche Anche questo Se non sbaglio Da cuocere Vediamo No Continua a cuocere Dai Non è così lenta Come mi ricordavo Dai Oh scusate ho dato un calcio al microfono Ok Dove sei dove sei Eccoti qua Vai Olè Dai 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 Ah devo mettere Ah Oddio non ce l'abbiamo un maceratore Vero Tu cosa sei Sagmil Ci può aiutare La risposta è no Metalurgic infuser Ci può aiutare La risposta è no Oddio sta laggando Scusate un attimo Eccomi qua Allora Non mi ricordo più Cosa stavo facendo Ah si Devo vedere se avevo Dell'iron Mi sa che l'ho preso tutto Solo quei sette pezzi Là Quindi devo metterli a cuocere In realtà non ne ho molto qui Perché ho lasciato tutto Nella ceste Della Della cosa Dovrei andare là Però non ho voglia Quindi se ci bastano Questi sette Meglio così Grazie Poi Allora Vediamo un po' Questo lo devo vedere Perché non me lo ricordo Ah è una cazzata Questo al centro Ok Questi Così E quattro pezzi di iron Abbiamo fatto il controller Che è praticamente La centrale Quella che ci permette Di collegare Tutti gli altri macchinari Della Playden Agistics Ve lo spiego Per quelli che non hanno seguito La scorsa stagione Di Deckraft Allora Oltre a questo ci serve Questa è quindi La centrale Che non Non ha una grafica Cioè Resterà soltanto Piazzata Di quella che Riceve l'energia Cioè In pratica La centrale Quella che riceve l'energia E la manda Agli altri macchinari Ci servirà M-Drive Che è come un Un Come si può dire Un Un rack di server Avete presente Quelle stanze Che si vedono nei film Dove ci sono diversi Cioè tipo C'è una Una specie di scaffale Con un casino di server Ecco Questa è la stessa cosa Solo che al posto del server Ci sono delle specie di hard disk Tra virgolette Che contengono Tutti I Come si chiamano Gli items Gli hard disk potranno essere Più o meno piccoli Infatti Sono questi qua Possono essere da 1 16 64 Penso che farò Da 16 Anche se sono un po' Un casino da fare Infatti mi sa che Li farò off camera Perché non vorrei Innoiarvi Già sarà noiosissimo Questo Però vabbè Non posso farne a meno Di farvi vedere Queste Le cose più importanti Insomma Allora Me drive Due me basic Così Quindi due gold Che mi sa che non abbiamo Fatemi pensare Fatemi guardare Esatto Non abbiamo ferro Non abbiamo niente In pratica Torna frape Oppure vado Allora Asperate Ho sbagliato Home Waypoint Asdrubalaisir Questa è la nostra Tartullina Che Si Oh cazzo È vero Non c'è Anca Si è una bagascia Te lo posso dire Che si è una bagascia Allora La rimetto all'opera E aspetto qui Sinchè non finisce Cosa vuol dire Va bene A frape Eccomi qua Allora Ho fatto Un po' di robetta Ho Ho trovato Un bel po' di roba E sono andato un po' avanti Allora Adesso appena vado a dormire E mi sveglio Vi faccio vedere Ecco da qui potete già vedere Che ho fatto il maceretto L'ho rifatto Ho fatto anche l'upgrade Che sono questi qui Che vi faccio vedere ora Su questi qui Ne ho fatto sei Tre per questo E tre per l'altro Sono una cavolata da fare Ho usato direttamente I macchinari Quelli da Mechanism Perché dovevamo fare il circuito Ma invece di fare il circuito Ho fatto questo qui Che Che mi è stato molto utile Mi sono appena ricordato Che di questi No Ne ho fatto altri Ne avevo già di questi Porcaccia la vacaccia E sembra funzionare bene Anche se in realtà Non regge molto Gli overclock Cioè Quando si mette l'overclock Consuma di più Diciamo Consuma molto di più Come vedete 409% in più 400% in più Yes Non regge Cioè Regge Però non molto Va bene Ci è servito molto Perché abbiamo fatto Un bel po' di roba Molto Iron Un po' di Copper In più Mi sembra Due o tre diamanti In più Se non sbaglio Quarzo Praticamente non ce n'era Qualche pezzo Era un chunk Quello che avevamo trovato Un chunk pieno Poi niente Ah questo è di qua Ho messo un po' In ordine tutto Quindi Ora possiamo andare avanti Abbiamo fatto l'ME controller Quindi ora facciamo l'ME drive Ci servivano Ah si Del gold Mi ho trovato Ah due redstone E un gold Ne dobbiamo fare due Quindi quattro redstone E No Mi sono già dimenticato Ne dobbiamo fare due di questi Quindi C'erano quattro redstone Due gold Così E poi Due di questi Allora 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 Tu qua Tu qua Due qua E la gold Il gold qua A proposito Alla durabilità Mica lo sapevo Allora vediamo Allora vi faccio vedere Come è la storia È molto più veloce Come vedete Anzi in realtà È più il maceratore Che consuma di più Però va bene Va bene La regge benissimo adesso Quando c'è Quando lo mettiamo A fare molta roba Allora potrebbe darci qualche problema Ma in realtà Non è che lo usi così tanto Cioè lo uso tanto Quando vado a minare Cioè mai Nel senso La tarta l'ho rimessa oggi Dopo un mese In cui In cui Brancolavo nel buio Praticamente Perché non avevo più Neanche un minerale Ah due glass E il glass non ci manca Perché l'abbiamo usato Per fare la casa E quindi Ne abbiamo in quantità Esorbitanti Una chest E quattro pezzi di iron Che adesso abbiamo One two three four E mettiamo in ordine Allora 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 Non si può fare Io ho visto una cosa Va bene Non lo faccio Però l'ho visto Ve lo giuro Facciamo così E Manca la chest Olè Abbiamo le me drive Scusate un attimo Eccomi qua Scusate Allora abbiamo anche le me drive Non devo urlare Non devo urlare Perché i miei genitori mi fanno Tipo spegnere tutto Se urlo Quindi devo parlare A voce bassa Dobbiamo fare la chest In realtà dobbiamo fare il crafting Però ci serve la chest Per fare il crafting Giusto Sì Quindi iniziamo da qui E va bene Tutta questa roba ce l'abbiamo Ah Conversion matrix Ah è vero Dobbiamo fare queste cose qui Serve a nether quartz Che si fa con il nether quartz E quindi Redstone Redstone la Oddio la redstone dov'è Ah eccola qui Ok Abbiamo anche un nether quartz Già Quindi facciamo un po' di Contini Di conteggi Ecco Conteggi Contini ho detto Ho detto veramente Contini Quindi Mi sono di nuovo perso Dove cazzo E crafting terminal Cioè Coso Access terminal Allora ci serve Un conversion matrix Che si fa con Due flux dust E un nether quartz Il nether quartz Ce l'abbiamo già per là Ce ne vuole un altro Che si fa con Due redstone Ok Allora Due redstone Così E la palletta La famosissima palletta Che mettiamo così E hopla Questo lo dobbiamo macerare Per fortuna abbiamo fatto il macerator Pensate che non l'avevo neanche calcolato questa roba No non sta più scendendo l'energia Forse era un momento di instabilità Così Eccolo qui E si faceva Eeeh Dove sei? Si faceva In questo modo E certus quartz Nether quartz E redstone Mi sembra abbastanza semplice Dai I craft non sono così difficili Sono un po' dispendiosi Ecco Però Sono una cazzata Ecco Eh Bastardo Eccoli qua i nostri due Flux Flux dust Scusate Flux Sembrano i flux dust Quelli che c'erano Flux e basta Quelli che c'erano Nelle mod scorse Ah poi ci serve anche uno di questi Bastardi Quanto li odio Anche se non costano anche Molto però Vabbè Eeeh Dove sei? Dove sei? Dove sei? Silicone Silicone finirà in un attimo Cioè sta finendo in un attimo Eeeh Sì Ok Così Due redstone One gold And il coltellino svizzero Basic processor O processor Scusatemi Che mettendo qui Cuocerà in un attimo E olè Quanto ci aiutano quelli upgrade Ho fatto benissimo a farli Non so neanche tanto Tanto difficili Quindi 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 Era Due Flux Ah Quattro Quattro Iron Un Certus E un Nether Nether Al Quattro Iron E un Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo qui Quindi facciamo così E tutto intorno Eccolo qui Conversion Matrix Ora ci servono Tre Glass Tre Glass Glass Ho detto Glass Scusate La stanchezza No aspettate Mi sa che vi sto male No Oh mio dio Mi sto addormentando Ok Però le vuoi registrarmi Perché non posso Ancora restare senza Dai Si fa tutto Questi cazzo di Flux Mi ricordo che prima Si faceva tutto Con un'altra roba Costa un casino Bastardi 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 Quindi Facciamoci un po' Di Nether Quartz Facciamo così La palletta Perché andare nel Nether Lo faremo Magari nella prossima puntata Oh sei bastardo però Questa cosa mi fa un po' Incazzare Non possono fare Certi Certe cose Vabbè che sono la versione Dell'era del cucco Cioè del senso Non avete idea Che non la giorno Da una vita Infatti è uscita la versione Per 1.7.0 Una cosa del genere Io sono ancora A 1.6.4 Quindi Immaginate un po' voi Ehm No aspettate Mi sa che sto facendo una cazzata Controlliamo prima Non si sa mai Ah si devo fare questo Quindi ne faccio Si Ne faccio tre Così Poi Ci serve il glass Dovrebbe essere così Mamma mia C'ho i tre upgrade Vai così lento Continuiamo a fare Perché tu vada veloce Se li metto questi qua Vabbè adesso lasciamo Lì là Ormai è finito Ole E li mettiamo Qui? No Qui Allora Dobbiamo fare così Così E la polvere di altri tre Così Ole Poi facciamo Così Così Ole E abbiamo dei cavi Ne ho fatto in più Perché ci serviranno Filatevi di me No questo non deve stare qui esattamente Allora questo deve stare qui I tre pezzi di vetro così E i quattro pezzi di ferro così Abbiamo l'assess terminal Abbiamo tutto Eeeh Iniziamo a piazzarle Allora innanzitutto dobbiamo portare l'energia Perché io vorrei metterlo su Dove ho fatto la roba qui Questo è tutto da eliminare Infatti ho sprecato tanto di quel legno Con cosa si tolgono? Vuoi dirmi che ci metterò così tanto tempo? Oh mio dio Ma forse è il tipo di Se lo faccio con quest'ascia Oh mio dio Se lo faccio con la pala La faccio con il piccone Con la spada Buonanotte Ci vedo in fra Allora non ho finito di pulirla Perché non ne ho voglia E perché ho poco tempo Però E ho cercato un modo per spostare queste due chest Per metterci Eeeh Questo L'access terminal E ho trovato questi dolli Che sono abbastanza semplici da craftare Se funzionano sono anche molto utili Adesso vediamo Eeeh Quanti pezzi sono Cinque giusto? Non mi ricordo Vediamo un po' se è così Oh yes Dovrebbe essere tipo Oh mamma mia E io lo piazzo qui E rimane tutto dentro Bellissimo Queste sono mod Interessanti Quindi ci metto L'access terminal No prima dovrei fare uno scavo piccolino Per portarci l'energia Perché Eeeh Va energia questa roba Vabbè L'avrete capito Eeeh Il bello di questa mod Della Applied Energistics E che va con qualsiasi energia Cioè qualsiasi energia Non le diamo Lui l'accetta Spero anche questa Perché ne abbiamo in quantità Esorbi dandi Eeeh Vediamo se abbiamo universal Così Universal Universal Eeeh Ne abbiamo pochini Pochini Come si facevano? Stilingot Gli stilingot Come si facevano? Ah mia le memorie No Non sei tu Quello che devo fare Quella è la Mechanism Se non sbaglio Giusto? Eeeh Still Dust Ok ho capito Dovevo guardare Nella cesta dei minerali Non dovrà essere avanzato qualcuno No? Osmium Eeeh No Si No Voi siete Lilid Ferro Tin No Perché? Ce l'avete come bastardi Quindi non so come cazzo si fa Vediamo i vari tipi di steel Ingot naturalmente Così Allora steel ingot della railcraft Che si fanno Semplicemente non si fanno Ah cuocendo l'iron si fanno questi E potrebbe piacermi Si mi sa che è quello che mi serve Ok Però mi ricordo che ce n'era un altro Che si poteva fare Quella cosa della meccanism Thinkers construct Non credo Traincraft No Quindi facciamo questo Cuocciamo l'iron Allora ne facciamo un Un 32 stack Un 3 Scusate che cazzo sto dicendo Un 32 Caduino Però se prendiamo questo Si Si Diventa più felice Insomma Oh yes Diventa più felice E non scende La cosa che mi piace di questa Di questa roba è che ho fatto un impianto Che è da dio Cioè Con quella roba della lana Ci sosteniamo tutta la casa Oggi sono un po' Dislessico E mia madre Mi sta di nuovo chiamando Scusate un attimo Eccomi qua Scusate Ok Devo proprio abbassare la voce E credo di aver funito la puntata Quindi Io sono SpiegaronTotto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Vi trovate sempre su Twitter Google Plus O sul mio sito SpiegaronTotto Punto xdc.mx O su Facebook Direttando facebook.com Slash SpiegaronTotto Official Io sono SpiegaronTotto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video di Techcraft Dove magari riesco a registrare di giorno Ciao